La Fondazione Sinapsi con il suo centro intermedia, che è un centro strutturato in collaborazione con il Comune di Cava, inaugura il 16 ottobre un corso di 30 ore dedicato agli insegnanti di sostegno, agli insegnanti curriculari, per accompagnarli rispetto alle problematiche che hanno i ragazzi non vedenti nel corso della propria attività scolastica. È un'iniziativa di grande rilievo, rivolta soprattutto al nostro territorio, che potrà consentire ai nostri insegnanti non solo di acquisire delle competenze specifiche, ma anche di essere concretamente più vicini, meglio operativi, conoscendo anche tutte le tecnologie che ausiliano i ragazzi non vedenti nel loro percorso di studi. Quindi un'iniziativa di grande significato. Siamo grati alla Fondazione Sinapsi, che è un'istituzione di respiro nazionale conosciuta in tutta Italia, nel segmento specifico di cui si occupa, che però ha sede a Cava dei Tirreni e che costituisce una delle grandi eccellenze che il nostro territorio ha. Per cui siamo grati alla Fondazione, siamo felici che il Comune di Cava dei Tirreni, con questo centro intermedia che è all'avanguardia per la tecnologia e per il sostegno per queste difficili situazioni ai nostri giovani con gravi diversabilità, appunto può dare sia a Cava dei Tirreni sia in tutta Italia. Allora, il 16 ottobre la Fondazione Sinapsi, come già da diversi anni impegnata sul territorio regionale della nostra città di Cava dei Tirreni, a promuovere iniziative a favore dell'integrazione delle persone con disabilità, in particolare dei bambini e dei ragazzi, terrà questo corso di formazione presso la circoscrizione di San Pietro al centro intermedia, corso rivolto agli insegnanti di sostegno e agli insegnanti che intendono formarsi particolarmente, nello specifico riguarda i bambini che hanno difficoltà, disabilità visiva, quindi applicazione di nuove metodologie. La realtà della Sinapsi a livello regionale, ma è sul nostro territorio una realtà molto radicata, qualificata, personale altamente competente e specializzato, per cui sarà un'occasione di formazione per il personale docente, per gli insegnanti di sostegno, ma sarà soprattutto un'iniziativa, come tante altre che svolge la Sinapsi, ripeto, sul nostro territorio, per favorire l'integrazione e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità, in particolare con disabilità visiva. Il 16 ottobre la Fondazione Sinapsi ha organizzato il corso Bambino con Disabilità Visiva nella Scuola di Tutti, metodologie, tecniche, ausili per l'inclusione. Il corso è organizzato per i docenti che sono di sostegno e curriculari. Gli argomenti sono i ceni di pedagogia, lo sviluppo del bambino, il codice di letto scrittura Braille, laboratorio tiflodidattico, ausili tifrologici ed informatici. Il corso si terrà presso il centro intermedia, che è un centro che è gestito dalla Fondazione Sinapsi, una convenzione che è stata fatta diversi anni fa, non ricordo quando, per la gestione di questo centro da parte della nostra fondazione. Il corso si articolerà in 30 ore e sarà diretto dal dottor Luca Spagnolo. Il centro intermedia è un centro che ha un laboratorio molto attrezzato, dal punto di vista tecnologico, con le più moderne attrezzature. Speriamo che il corso possa dare i risultati sperati.